buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia oggi abbiamo un ospite dall'altra parte che viene dall'altra parte del mondo Roberto, ciao Roberto ciao Adele, ciao grazie per avermi invitato qua ciao a tutti quelli che ci ascolti grazie a te per esserci allora dovete sapere che la storia di Roberto è veramente affascinante io lo conosco come studente perché un vero ricercatore non smette mai di studiare e vedremo adesso da quello che sta portando avanti che è effettivamente così quando si ha ricercatori non si smette mai di studiare quindi l'ho conosciuto grazie alla Libera Università e l'ho incontrato in Spagna quando eravamo appunto nomadi in giro per la Spagna dopodiché per tutte le qualifiche insomma le conoscenze che ha questo giovane ricercatore italiano all'estero gli ho proposto di fare un corso per noi che tratti un argomento estremamente importante per la nuova pedagogia e cioè la geometria sacra ma prima di affrontare i temi che tratterà Roberto vorrei chiedere a Roberto se ci racconta un pochino della sua storia di come è arrivato insomma ad avere poi un suo canale insomma è un ricercatore veramente a 360 gradi Robby parlaci un po' di te beh dunque che dire io sono architetto la mia formazione diciamo accademica per modo di dire perché poi da subito entro nel studio universitario molto sulle barricate e contromano però voglio dire affronto con serietà anche la parte accademica della formazione perché anche quella è fondamentale ma poi soprattutto la facoltà di architettura in sé io gli sono molto grato perché è una facoltà che apre la testa quantomeno a me l'ha aperta ma credo che la apra chiunque e la faccia con amore e con passione io ricordo ancora ho avuto la possibilità di conoscere molti architetti famosi oggi c'è un termine che trovo imbarazzante che è archistar che lo trovo vergognoso come termine quasi paragonando gli architetti a delle rock star però a molti probabilmente di loro piace però io ho conosciuto molti una dozzina di quelli della generazione appena precedente che erano anche sopra questi archistar e mi ricordo Philip Johnson che aveva più di 90 anni quando l'ho conosciuto e un ragazzo, uno studente gli ha chiesto ma come faccio a sapere se l'architetto è il mio lavoro e lui oltre a 90 anni ha detto tu lo capisci il primo giorno che vai in cantiere perché l'architettura è come il sesso come una bella donna se ti piace tu in cantiere ci vuoi stare e io quando vedi un uomo di 90 anni che ha passato tutte le avanguardie del 900 dire una cosa del genere e questa quando uno fa una qualunque materia ma in questo caso l'architettura con questa passione è sicuramente una facoltà che apre la testa però io arrivo insomma come tutti da un passato quando vedo Roberto Bambino che parlo a presente perché il tempo passato presente futuro sono qua ora se mi riesco a strarre riesco un po' a avvicinarmi molto al Roberto Bambino a riviverlo quasi un po' come tutti noi è un bambino molto felice che ha vissuto una infanzia terribile tremenda molto felice un'infanzia molto felice e terribile quindi ha vissuto subito questa dualità perché ho avuto tutto la scuola gli amici il papà la mamma con mille passioni e mille cose e questa malattia della mamma che non lasciava scampo gli aveva dato due settimane di vita e quindi sono dovuto crescere molto in fretta perché quando avevo cinque anni e a sei già sapevo tutto perché evidentemente con questo intuito non era possibile nascondermi le cose quindi sono riuscito a nascondere nemmeno meno di un anno e poi dopo abbiamo da lì c'è stata c'è stata questa connessione questa connessione con un lignaggio di linea materna la nonna curava quindi noi nella nostra abbiamo avuto questo legame fortissimo con la terra con le tradizioni della mia terra le famiglie paterna e materna hanno due regioni vicine quindi una tradizione antichissima di popolo certo Ligure delle due regioni Lombardia e Liguria che erano tradizioni molto simili con orgoglio e con vanto le due famiglie sono legate alla terra ci sono poi molti che cercano di nasconderlo perché tutti vengono alla terra e per me questa è una fortuna invece e e la nonna materna al domenica quando c'era il giorno di riposo arrivavano da tutti i paesi vicini per farsi aggiustare le gambe quindi non erano riusciti l'inquisizione non era riuscita a bruciare questa parte della nostra famiglia quando 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 di sicuramente antichissimo lignaggio celtico intendo come forma di guarigione ma magari è ancora più antico insomma che arriva dalla terra come ogni regione ha la sua tradizione poi in fondo sono tutte molto simili parlo della mia ma sono tutte poi uguali simili il percorso che è stato fatto quantomeno in Italia e nell'Europa ma probabilmente in tutti i paesi tutti i popoli nativi del mondo e quindi da lì la mamma ancora aveva conservato parte di queste conoscenze io ho pochissimo quel poco che mi serve per aggiustarmi le slogature ma ho preso tante altre cose ho scoperto ho scoperto e arrivo al dunque della mia formazione ho scoperto recentemente di aver vivissimo questo legame sottile diciamo ma soprattutto perché ho capito che poi dopo qualche anno dopo quando avevo circa 9-10 anni ho assistito ho imparato anche la magia della co-creazione della manipolazione e deformazione della realtà perché è un famosissimo esperto di Milano che poi è diventato il massimo esperto nazionale ovviamente non faccio nomi è uno con il nomato a livello mondiale scritto milioni di libri eccetera aveva dato due settimane di vita alla mamma e quindi lì c'è stata questa co-creazione padre madre figlio quindi della dualità fortissima di questa gioventù bellissima e tragica a questo trio in realtà c'era anche mia sorella ma si era giustamente messa da parte perché in quattro cosa avremmo creato lei era più grande e giustamente per fortuna aveva le sue cose da portare avanti quindi è stato è stato possibile questa creazione e di colpo succede che papà ha disperato che ha cominciato a sentire i suoi amici qua e là e un amico che era andato negli Stati Uniti insomma la cosa è incredibile abbiamo vinto a superenalotto nel senso che il caso della mamma è arrivato sulla scrivania di un ospedale americano e sembra una storia di un film questo professore doveva decidere come utilizzare dei fondi dati per la ricerca da qualche magnate da da uno shake non lo so non lo sappiamo e il caso della mamma gli era gli era interessato dal punto di vista scientifico senza conoscerci assolutamente semplicemente che era c'erano c'erano 13 casi nel mondo quindi ha scelto quel caso lì gli ha vinto superenalotto ci siamo imbarcati e io mi sono trovato a 10 anni a fare traduttore quindi non è che potevano più negarmi niente cioè dovevo dovevo spiegare io a loro cosa stava succedendo eccetera quindi sono cresciuto molto in fretta e per me questa è un'infanzia bellissima nel senso che nel senso che in questa dualità poi c'è stato quindi mi rendo conto oggi che sono stato ricollegato a questo legame familiare io oggi studio ricerco tutto ciò che sono medicine alternative chiamiamole alternative anche se sono quelle originali poi del pianeta medicine ancestrali medicine olistiche non so per usare alcuni tipi di parole per intenderci ecco e pratico molte di queste discipline insomma l'atere oltre a essere architetto mi occupo di autoguarigione e di aiutare lo sviluppo dell'autoguarigione altrui questo lo faccio soprattutto come come anche soprattutto come diciamo passare di di competenze cioè diciamo di istruzione riguarda riguarda questa cosa mi occupo anche direttamente quando mi viene chiesto un consiglio un aiuto dello dello sblocco e dello sviluppo dell'autoguarigione che ciascuno di noi ha dentro di sé e tutto questo deriva lì poi ma insomma in realtà da subito in questa bellissima infanzia completa che ho avuto la scuola da subito ero molto interessato sono sempre stato interessato la storia dell'arte ero praticamente sono stato sin da piccolo da piccolo fino all'università fino alla fine del liceo l'unico che era sempre attento a quella lezione e alla lezione di disegno che al liceo scientifico si faceva allora c'erano questi libroni molto grossi dove si ricostruivano tutte le figure geometriche e io il compito in classe lo finivo dopo dieci minuti quindi lo facevo per due o tre compagni vicini così a gratis nel senso che mi divertivo a farne tre o quattro e quindi le costruzioni delle varie figure geometriche e da lì insomma non è altro che poi scoprire e ripercorrere la geometria sacra la quadratura del cerchio questo figura impossibile che si crede impossibile insomma in realtà sì non si è mai arrivato la quadratura del cerchio ma ci sono c'è la costruzione ci sono diverse le costruzioni geometriche che si avvicinano tantissimo quindi sì è stata risolta per modo di dire insomma con un'approssimazione molto molto simile e queste cose le cominci le cominci a a scoprire insomma quindi questa magia della cocreazione della realtà e la mamma i tarocchi il pendolo al nostro adamos la pittura la saltoria mamma era salta perché la bambina ha iniziato ad andare in fabbrica molto giovane e quindi poi è diventata sarta e era pittrice e aveva tutte queste passioni papà i suoi viaggi astrali e quindi questo è un po' è un po' la formazione di base e quindi divento poi per me era quindi se era normale a 11-12 anni fare il traduttore di questa cosa tragica mamma è stata salvata per un lungo periodo e poi è dovuto la cocreazione è finita è dovuta andare incontro al suo destino e fortunatamente non era in questo piano quando ci sono successe le cose degli ultimi anni questo mi rende mi sollieva e poi invece io come adolescente e giovane uomo ho stato un po' un ribelle ma non per modo di dire insomma davvero sulle barricate è cresciuto fra i salotti e le piazze quando erano ancora calde le piazze di Milano e questo mi ha dato un grande insegnamento una grande scuola di non mollare mai 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 non mollare veramente mai e da lì inizia l'università di architettura subito sulle barricate come ho detto e questa insomma è un po' la storia della formazione da subito insieme a architettura mi sono interessato come passione di archeologia di esoterismo allora l'avevo mollato poi perché non ero non capivo non era il momento giusto non mi erano arrivate tante cose oggi per esempio con l'ultimo viaggio da cui torno da cui torno da pochi giorni sono stato in un viaggio insomma un'avventura anche insomma per certi versi pericolosa come tutte le avventure un'avventura sulle alture della Bolivia incredibile e anche lì sono stato come tutti questi viaggi si entra poi in contatto con delle forze molto forti con energie fortissime e e allora aspetta un attimo aspetta un attimo Robby non andiamo così avanti perché ho ancora un paio di domande da farti certo allora un architetto divergente ti potrei definire vista la formazione che ci hai appena descritto con un interesse diciamo innato per la guarigione di discendenza matrilineare quindi la vera diciamo fonte dell'energia del nostro pianeta se vogliamo se vogliamo dare retta a tutta l'archeologia di Maria Gimbutas eccetera ma una cioè la domanda diciamo che sorge spontanea è secondo te perché è così importante oggi dedicarsi allo studio di alcuni temi appunto esoterici come la geometria sacra perché i simboli sono così importanti oggi più che mai beh innanzitutto credo che è sempre è sempre importante dedicarsi allo studio perché soprattutto in questo periodo bisogna trovare una bussola e quindi bisogna per avere delle basi su dove andare bisogna avere una centratura quindi uno poi può trovare i suoi metodi la meditazione uno dei classici ma ognuno sceglie il suo e lo studio lo studio è fondamentale perché la geometria sacra io credo che il futuro di questo di questo mondo che poi è oggi perché perché è passato presente futuro coesistono sia nel nostro passato nel senso che beh a parte appunto per il fatto che il presente è l'unica realtà che esiste da ogni punto di vista la vogliamo vedere da un punto completamente pratico a quello scientifico o filosofico l'unica cosa che esiste è il presente dove viviamo noi oggi ma futuro e passato coesistono in questo stesso momento quindi tutte le infinità di esperienze che abbiamo vissuto che vivremo sono qua oggi adesso chiaramente noi con la nostra consapevolezza siamo qui e quindi viviamo il presente possiamo avere un ricordo del passato e alcuni possono avere delle anticipazioni del futuro ma perché in realtà stanno convivendo ma di più per chi sa o crede che sia così anche tutte le eventuali nostre altre presenze su questo pianeta o su altri piani convivono tutte nello stesso momento quindi per esempio nella lingua checua che è una delle lingue andine molto ancora molto viva oggi perché ci sono molte scuole viene ristudiata e quindi sta tornando la parola passato ha un'assonanza con la parola davanti e la parola futuro ha un'assonanza con la parola indietro questo perché il passato ci sta davanti come guida ma questo nella logica di un tempo circolare e non il tempo lineare che è stato imposto quando è stata estirpata la nostra cultura nativa estirpata in parte perché mica credono di aver vinto la nostra cultura nativa europea quelli gli imperialismi che sono venuti hanno voluto farci credere che esiste un tempo lineare quindi una sequenza di cose per poter produrre vendere comprare questo era lo schema in realtà nel passato sappiamo che si è sempre pensato un tempo circolare un tempo che può andare avanti e può tornare indietro non ha una linealità fissa e appunto il fatto che il passato ci sta davanti perché ci sta lì come guida e quindi è trovare il percorso giusto per poter incanalarsi ma è una ciclicità che sale a spirale un salto di ottava un salto di ottava che è quello che succede poi a chiunque nel percorso di conoscenza poi arriva un momento in cui ce ne rendiamo più conto e rendendoci più conto di questi salti di ottava li possiamo anche facilitare torniamo al discorso di prima a cocreare la realtà e a distorcerla e modificarla nei limiti del possibile per come abbiamo imparato a modo nostro quindi magari facilitare anche questi salti di ottava e quindi credo per tornare alla domanda che la geometria sacra sia importante oggi più che mai e attuale oggi più che mai perché è uno strumento con mille forme una specie di coltellino svizzero con mille con mille utilità è come uno strumento anche multidimensionale poi però che può aiutarci a incranarci su questa su questa salita su questo su questo giusto canale della spirale per ascendere no? e salire perché perché in fondo loro gli antichi sapevano che il tempo era una spirale sapevano che il passato sta davanti quindi sapevano che questi strumenti sarebbero tornati e quindi torniamo a quello che è di cui stavamo parlando la potenza del simbolo io credo che che l'importanza della geometria sacra in questo mondo che stiamo creando è tornare a capire la semplicità della geometria sacra la semplicità perché oggi appare un po' come una una materia diciamo quasi iniziatica uso questa parola non per riempirmi la bocca ma perché ovviamente nel corso della storia è stata una delle materie che sono diventate segrete diciamo no? perché insomma l'inquisizione è iniziata molto prima di quanto riportato sui libri di storia no? e quindi ben prima cioè nei tempi molto più antichi diciamo delle scuole misteriche o delle scuole segrete in realtà la geometria sacra era pubblica e inizia ne abbiamo almeno nella nostra civiltà ne abbiamo testimonianza appunto con i petroglifi con la pittura all'arte antica dove ci sono c'è tutto il repertorio completo di geometria sacra e ci sono anche altri tipi di disegni perché poi disegnavano anche quant'altro però tutto nasce dal simbolo dalla geometria semplice quindi il simbolo sappiamo dal punto di vista etimologico dal verbo simballo c'è unire due cose differenti tra di loro l'opposto di diaballo e il simbolo in sé in realtà poi ci porta a meditandoci sopra possedendolo conoscendolo ci porta a poter arrivare a capire un sacco di significati che sono dentro e questo dipende dal livello di coscienza di ciascuno e quindi a poco a poco scoprirai in un simbolo determinati significati determinate cose la stessa persona dopo un mese può scoprire altri significati e i metodi poi sono molti diceva ad esempio Omran per citare uno dei grandi maestri che il linguaggio simbolico assoluto è quello delle figure geometriche quindi questa stretta correlazione tra il simbolo e la geometria sacra e le figure geometriche che sono l'ossatura stessa della realtà torniamo ai discorsi di grandi filosofi e quindi faceva da Pitagora quant'altro adesso ho voluto citare uno più moderno perché poi è anche facilmente accessibile però poi nel corso ne vedremo ne citeremo diversi però è anche uno di quelli più facilmente accessibili tradotto facilmente quindi facilmente accessibile insomma non è è siccome è tradotto dal francese è tradotto bene insomma da un'altra lingua perché poi dopo sappiamo che per esempio è un grandissimo maestro come Steiner poi a volte per me è un po' stico da leggere perché forse anche perché è stato tradotto dal tedesco e ti sa magari con tutta quella mole di lavoro è stato tradotto difficilmente ho voluto citare Omlam fra i molti perché è molto facile da leggere e lui ci dice che come il guarda qua lo dice come il mondo divino del pensiero può cristallizzarsi nei simboli così diluendo quei simboli vale a dire facendoli risuscitare e verificandoli nella propria anima si possono scoprire e ricavare le ricchezze che essi contengono quindi ancora una volta uno strumento importante e ricordiamo stavamo ricordando Pitagora Pitagora quando c'era un candidato discepolo lo chiudeva in una stanza si dice con una brocca d'acqua del pane un simbolo su quale meditare perché poi da lì può uscire tutto e esce un mondo quindi il simbolo il simbolo e quindi la germettia sacra come un seme come un seme che può far germogliare e diceva ancora qualcuno di questi maestri insomma possedendo una dozzina di questi simboli può possedere tutte le scienze allora secondo me l'importanza è quella di tornare a scoprire la semplicità dopo tutto questo discorso che in realtà poi racchiudendo la geometria sacra la genesi della matrice del tutto insomma è una cosa che pare complicatissima e in fondo se mi dici in 12 simboli racchiudo tutte le scienze lo è però in realtà la volontà del corso e anche quello che penso che lì sia l'importanza della geometria sacra oggi è quella di tornare alla semplicità delle origini in quale quella prima dell'inquisizione di una delle prime inquisizioni quando ci si è dovuti nascondere e segretare ancora molti oggi ritengono che sia una materia segreta ma prima ancora non lo era perché perché queste grandi pareti io poi magari ne parliamo dopo ho avuto la possibilità in questi giorni di entrare in contatto con anime antiche che mi hanno fatto fare un paio di giri di spirale di ottava in alto in più rispetto anche a questi argomenti a me personalmente rispetto a come ero prima e quindi mi hanno aiutato a capire un po' meglio le cose di quanto le stessi capendo e che in questo continuo percorso che tutti abbiamo la possibilità di fare un gradino per volta queste pareti pitturate o scolpite di petroglifi di queste figure geometriche erano lavagne enormi lavagne dove chiunque portava il padre e il figlio a capire pubblicamente o da soli in privato che cosa ci fosse in quei simboli quindi l'agricoltura la geometria gli astri l'architettura e abbiamo detto tutto i lavori essenziali ci sono quando hai fatto da mangiare e ti sei protetto poi tutto il resto sono orpelli che abbiamo creato per vendere una cosa una scelta che voglio dire abbiamo fatto entrambi io per esempio sono andata a vivere in Sardegna dove dovunque mi giro vedo simboli di spirali oppure immagini appunto di di tori che non sono altro che la forma dei pozzi sacri eccetera eccetera e tu che hai fatto la scelta di andare a vivere in America America centrale quindi sei vicino a due grandi civiltà questa cosa comunque la tua scelta ha poi portato insomma aiutato anche la ricerca che stai portando avanti ora e che ti sta portando in giro a fare questi meravigliosi viaggi ultimamente hai insomma stai facendo una ricerca abbiamo visto i tuoi video proprio su queste mummie aliene che hanno creato questo grande dibattito fra esperti e semplici curiosi ci puoi parlare in conclusione di queste tue ultime diciamo ma ci vuole avventure che stai vivendo e che i nostri amici possono seguire anche sul tuo canale ma sì diciamo questa scelta di venire in america in realtà è stata una scelta però era segnata penso a sei anni quando ho visto per la prima volta una cartina non so se mi stessero insegnando geografia piuttosto che la cosiddetta scoperta dell'america ho visto che un'energia incredibile lì e mi è sempre rimasto impresso quel giorno e poi va bene mia moglie è italiana e però è cresciuta non però è italiana ed è nata ed è nata nell'america in sud America e i miei figli stanno crescendo qua c'era un legame e adesso nel corso torno a questi giorni da una avventura incredibile nella quale ho partecipato anche per alcuni giorni a una spedizione archeologica con 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 alcuni nuovi amici che fanno questo di mestiere insomma con antropologi archeologi e altre professioni di spagnoli e boliviani eravamo alla ricerca di petroglifi inediti che poi verranno pubblicati io ho fatto diverse migliaia di foto e video e sicuramente sicuramente ne parlerò sul canale e quant'altro però l'esperienza è stata incredibile perché come dicevo a parte l'avventura e che per forza a tratti sono anche pericolose perché ti trovi a camminare a scalare per 5 6 7 ore al giorno a 2.500 3.000 4.000 metri e sotto un sole cocente un vento tagliente ti trovi magari senza acqua con una guida che a volte si perde insomma ci sono anche situazioni e lì a quel punto mantieni mantieni la certezza della tua coerazione e della tua energia e della tua forza anche quando quando il medico per due volte ti ripete stiamo vicini a disidratarci e poi siamo usciti tranquillamente dalla vicenda ed è bellissimo perché tu vivi per tre giorni in mezzo a Petroglifi dove non c'è nulla salvo che a sera torni nel villaggio e lì appunto mi ricordo che mi ricordo che quando e lì fai un salto di scala perché a livello di percezione quantomeno per esempio di geometria sacra fai un salto di scala perché tu recepisci quell'energia che è lì perché quello è un luogo sacro perché camminando per tre giorni in mezzo a migliaia e migliaia di Petroglifi di cui ne puoi vedere al limite la metà perché poi se avesse anche il tempo non hai più le forze per andare avanti poi ci sono anche dei luoghi rituali sacri e quindi lì le energie come sappiamo e parleremo anche di queste cose nel corso chiaramente questi luoghi sono sempre stati prescelti dove la terra ha delle energie particolari e dove si intersecano energie telluriche e energie del cielo e poi i riti che allora si facevano amplificavano tutto questo magari la parte del rituale si è persa nel migliaio di anni però l'altra parte rimane quindi tutte queste energie si convogliono e per tornare al discorso della geometria sacra che è la domanda che mi avevi fatto mi ricordo che qualche mese fa al giro di ottava precedente di questo ero stato in Guatemala a Ticale Yaccia due posti incredibili incredibili dozzine di piramidi e la guida di là Don Luis che è un uomo metà maia e metà europeo mi ha detto un sacco di cose incredibili sulle quali riflettere una sulle quali non ho mai riflettuto ma mi ha detto vedi il modo più sicuro più sicuro per poter avere uno sviluppo di coscienza è venire in questi posti chiaramente venire in questi posti con sapendo come come ricevere come manovrare le energie che ci sono non ce l'ho mai riflettuto poi ne ho parlato con varie persone tutti mi dicono esperti mi dicono chiaramente è così ma era una cosa che già sapevo anch'io però me lo doveva dire Don Luis perché non ce l'ho mai riflettuto e chiaramente è così io per esempio in Guatemala mi stavo tirando dietro una piccola autoguarigione che non si completava ero scalato diverse piramidi e si è completata per dire per fare un esempio quindi le energie poi si muovono e si convogliono e così così per tornare la geometria sacra in sé come parlavamo prima di Pitagora che metteva il discepolo davanti a una figura geometrica sulla quale riflettere il fatto invece di viverci in mezzo non sei chiuso in una stanza col pane non ce l'hai al massimo ti porta avanti le tue energie il sapere della guida che hai con te e le erbe sacre che la natura la madre terra ha dato a quelle alture e vai avanti per quello però sei all'aperto ma sei circondato da migliaia di questi simboli sacri e quindi il fatto di vivere queste energie ti portano a un risveglio la stessa cosa succede poi riflettendoci quindi studiandoli facendo un percorso la geometria sacra è uno strumento ma intorno alla risposta alla domanda la geometria sacra è uno strumento quindi volendo per anche per uno sviluppo di coscienza spirituale di riflessione che poi rimane lì e lavora dentro della persona così come nei luoghi di geografia sacra di cui parleremo anche di questo nel corso anche anche la geometria in sé e quindi sì abbiamo trovato abbiamo trovato diversi esseri tridattili che penso mostrerò a breve e sia sia scolpiti che nell'arte tessile nell'arte tessile locale nelle americhe l'arte tessile sta tramandando oggi ancora le antichissime tradizioni in tutti i paesi delle americhe è una cosa che in Europa mi pare si sia persa e quindi queste avventure sono incredibili io poi e poi arrivo al punto anche della parte che mi chiesto sugli esseri tridattili cosiddette mumie in questo viaggio specifico poi ho scoperto uno dei motivi per cui ero stato richiamato lì che una delle nostre guide mi ha diciamo era un amico probabilmente di lunghissima data che ho conosciuto lì insomma un'anima antica e mi ha mostrato mi ha mostrato un diciamo in prima diciamo per conoscenza sua di prima mano diciamo una così un significato un significato ulteriore di parte della giornatria sacra diciamo che forse me l'ha ricordato ecco per chi vuol capire e bene io ti ringrazio veramente per per metterci tutta questa curiosità e anche perché voglio dire con lo stato attuale delle scuole moderne e parlo delle scuole insomma tradizionali avere la possibilità di studiare e di riprendere certi temi che sono stati occultati per centinaia di anni è sicuramente una grandissima opportunità per tutti noi quindi invitiamo i nostri studenti ad aderire al tuo percorso che inizierà a febbraio del 2024 e nel frattempo insomma potete seguire Roberto sul suo canale Roberto Venturino per cui insomma troverete tutte le sue ricerche belle in mostra in attesa poi che ci aiuti ad entrare all'interno del 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 semplice del semplice linguaggio dei simboli grazie Roberto e non so se vuoi dire un'ultima cosa per salutare no grazie mille sì ci vediamo al corso ci vediamo al corso arrivederci a tutti e grazie alla prossima chiacchierata grazie a tutti Grazie a tutti.